allora noi siamo tornati dall'atto stiamo festeggiando perché oggi avete comprato casa come vi siete trovati con md a immobiliare benissimo grazie di tutto gentilissimo veramente gentili e bravi nel vostro mestiere bene quindi ci consigliate come simonetta la consigliamo simonetta bene io vi ringrazio auguri te padevano Grazie a tutti.